Per primeggiare nel mondo delle vetture compatte premium serve uno stile moderno e alla moda, tecnologia di alto livello, ottimo feeling di guida e magari anche la possibilità di godersi il paesaggio attraverso un tetto apribile panoramico. La nuova DS3 Cabrio propone tutto questo e prova quindi a superare le rivali, forte di oltre 330.000 esemplari venduti nel mondo e più di 20.000 in Italia. La Citycar d'Oltralpe abbandona quindi il simbolo Citroën per adottare il logo DS, a conclusione di un processo che ha visto la creazione del marchio premium del gruppo PSA. Oltre a qualche piccola novità estetica e all'adozione dei sofisticati farixeno con indicatori di direzione dinamici, la versione Cabrio propone anche qualche extra, come le finiture in tinta con la carrozzeria nella zona posteriore. non mancano poi le possibilità di personalizzazione, con 68 combinazioni di colori diverse per l'abbinamento tra carrozzeria e tetto, quest'ultimo disponibile, come nel nostro caso, anche nell'affascinante tinta marrone topazio, con monogramma DS. Passando alle novità tecniche più interessanti, sulla vettura francese debutta l'inedito cambio automatico, che garantisce tempi di cambiate più rapidi e minori consumi di carburante, mentre il motore è un 1.2 tre cilindri turbo da 110 CV e con sistema start-stop. Sorprendentemente silenzioso e anche abbastanza brillante. Da questa unità non possiamo pretendere prestazioni sportive, ma è pensato per chi predilige la guida rilassata, i bassi consumi e il buon comfort di marcia. Da migliorare invece il sistema multimediale, seppur dotato di uno schermo touch, necessita sicuramente di un upgrade per renderlo all'altezza degli standard attuali. In attesa di questo ci godiamo comunque una vettura bella da vedere e da guidare, che con la bella stagione può diventare la compagna perfetta sia durante la settimana che nelle gite del weekend.